Imprevisto a Ballando con le Stelle 2020 per Alessandra Mussolini. Che ha chiesto un po' di acqua e zucchero per la sua concorrente, Alessandra Mussolini si è poi seduta su una sedia messa a disposizione dalla produzione mentre Michael Fonts ha spiegato cosa è successo. Prima della diretta la 57enne non ha mangiato nulla per via della complessità della nuova coreografia. Una coreografia piena di prese che ha spinto la Mussolini a non cenare per evitare di rischiare di vomitare poi in pista. Alessandra Mussolini è stata piuttosto testarda e non ha seguito i consigli del suo ballerino Michael Fonts, che più volte le ha suggerito di sgranocchiare qualcosa prima dell'inizio della puntata di Ballando con le Stelle. La terz'ultima prima del gran finale previsto per la fine di novembre. Una mossa sbagliata visto che poi Alessandra ha avuto un calo di pressione e ha avuto un mancamento. La Mussolini non è riuscita a riprendersi da una presa complicata, quella con lo stomaco schiacciato sulla testa dell'insegnante di danza Michael Fonts. In diretta Millie Carlucci ha prontamente tranquillizzato la famiglia di Alessandra Mussolini, che non si perde una puntata del Varietà di Rai 1. Dopo lo svenimento Millie Carlucci ha prontamente dato la linea al Tg1 mentre Alessandra Mussolini ha cercato di riprendersi. Nonostante l'imprevisto la performance della nipote del duce Benito Mussolini è piaciuta parecchio ai giurati, che hanno posizionato Alessandra al terzo posto della classifica. Non è la prima volta che Alessandra Mussolini ha un problema di salute a ballando con le stelle. Qualche settimana fa è dovuta correre al pronto soccorso dopo aver ricevuto un colpo al naso da Michael Fonts. Nulla di rotto ma tanto spavento per la Mussolini, indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione dello show. Nella